Nella tredicesima giornata del campionato di Serie D, lo Scordia pareggia per 1-1 contro il Reggio Calabria Albinanti, sfiorando la vittoria in più di un'occasione. Quarto pareggio consecutivo per i rossazzurri, che non sono riusciti a trovare i tre punti tra le mure amiche. Un punto guadagnato che muove la classifica e che fa crescere il morale e le ambizioni della squadra in vista della prossima gara, il derby contro il Noto. Ma andiamo alla cronaca della partita. Nei primi minuti di gioco, lo Scordia mette in nette difficoltà un Reggio Calabria incapace di reagire, sfruttando la velocità in pressing del reparto offensivo. Il gol per i padroni di casa non tarda ad arrivare. Al sedicesimo, infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, lo Scordiense feca rotta in sacca di testa alle spalle di Licastro. 1-0 e Scordia padrone del campo. Il Reggio Calabria si fa vedere in avanti intorno al trentesimo con Maesano, che dopo un dribbling scarica un tiro debole tra le braccia di Bandolfo. Ma lo Scordia non molla la presa e al minuto 34 uno scatenato da gossa con un tiro a girare impegna seriamente il portiere avversario costretto a deviare in angolo. Al minuto 42 l'arbitro, il signor Paride Tremolade della sezione di Monza, assegna un calcio di rigore e granata per un presunto fallo di Omar Diop in area di rigore. Tiro dagli 11 metri, poi trasformato da Arena. Il primo tempo si chiude in parità con i rossazzurri, che avrebbero meritato qualcosa in più. Nella ripresa è il Reggio Calabria ad orchestrare le manovre offensive, con i padroni di casa che non riescono a costruire azioni pericolose, perdendo molta lucidità in fase di impostazione rispetto a quanto visto nei primi 45 minuti. La prima occasione pericolosa arriva al minuto 65, con Bramucci che sfodero un grandestro dal limite impegnando Bandolfo. I rossazzurri reagiscono poi al 75esimo, con un ottimo contropiede orchestrato da Giorgio Corona che serve un dai e vai maltese, che poi ritrova Corona al centro dell'area di rigore, che però spreca tutto tirando debolmente. Nei cinque minuti di recupero gli ospiti hanno anche l'occasione di portare a casa il bottino pieno. Al minuto 95, infatti, sugli sviluppi di un calcio d'ancolo, Zampaglione colpisce di testa colpendo il palo interno. A fine partita applausi del Binanti per gli scordienzi, che hanno dimostrato di saper tenere testa un avversario temibile. Quando tu dai tanto il primo tempo, con grande intensità, con grande voglia, è normale che poi dieci minuti in quattro d'ora li devi concedere obbligatoriamente alla squadra avversaria. Però poi fortunatamente con i cambi, con le persone che erano fisicamente che stavano bene, perché sia Zumbo che quelli che sono usciti da costa hanno giocato tutte le partite, non sono mai riposate, quindi anche questo è un fattore determinante. Abbiamo concesso un quattro d'ora, ma l'abbiamo concesso a una squadra importante, l'abbiamo concesso alla regina, ma alla fine penso che lo Scuddi è venuto fuori e solamente l'episodio non ci ha stancito la vittoria. È un episodio strano, è un episodio che non ho detto prima, non voglio giudicare perché non mi va di giudicare l'operato dell'abito. Se l'abito l'ha vista in quel modo vuol dire che era ricorda, però secondo me non ci dobbiamo concentrare sull'episodio in se stesso, ma bensì su quello che doveva essere la nostra gara. L'abbiamo fatto, solamente l'episodio e solamente un po' di determinazione in più sottopotta, non ci ha portati i tre punti a casa. Prima del calcio di ricorre abbiamo giocato un'ottima partita, però dopo quell'episodio là si è tagliata le gambe e l'abbiamo sentito poi al secondo tempo. Non voglio raccontarlo perché purtroppo è andata così. La palla l'ho presa prima in pancia e poi non l'ho sfiorata la mano, però non è che la mano l'avevo alzata o l'avevo attaccata proprio al corpo. L'abito l'ha vista diversamente e ha fischiato il rigore. L'episodio è che si è condannata perché noi prima del calcio di ricorre abbiamo giocato benissimo, però poi vedendo come è andata, come l'ha fischiato il rigore, purtroppo il calcio è fatto anche così, si è tagliato le gambe, però dopo gli ultimi 4 d'ora abbiamo reagito e abbiamo meritato anche di vincere questa partita. Grazie a tutti!